Fornite ha rileccato questa skin gratis, qua davvero bellissima Jules da spiaggia, che può essere ottenuta ragazzi molto semplicemente facendo l'accesso a Fornite in seguito a questo nuovo aggiornamento. Ovviamente non è l'unica cosa perché sono anche arrivate le sfide del 4 maggio Star Wars e appunto abbiamo visto l'introduzione delle nuove spade laser. Inserisci i codici, supporto creature elettrico sui negozi oggetti di Fornite per supportarmi con tutti gli acquisti che andrai a fare. E appunto se anche devi avere la possibilità di vincere le skin in post battaglia semplicemente iscriviti al canale, lascia un like con i video di video e commenta qua sotto il tuo ID di Epic.